Istoria magistra vite. Perché critichi il ricerchismo che studia la istoria magistra vite? Commento. Perché gli eventi storici sono stati i maestri di chi li ha vissuti e non di chi li studia. Quegli eventi sono stati la creazione della forma coscienza di chi li ha vissuti. Sono serviti perciò all'evoluzione di chi li ha prima creati e poi percepiti. Sono serviti a ciò che siamo stati. Per questo le reincarnazioni umane seguono sempre la freccia della storia e non si ripetono mai in un periodo storico che precede la nostra ultima reincarnazione. Grazie. 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 Grazie a tutti